La rivoluzione digitale sta cambiando il modo in cui viviamo, lavoriamo e comunichiamo. I dispositivi mobili, il cloud computing e i big data stanno trasformando il nostro modo di lavorare. La crescente domanda e l'innovazione tecnologica stanno scandendo il ritmo del cambiamento. Con l'economia digitale che cresce tre volte più velocemente rispetto all'economia globale. Si prevede che ci saranno più di 6 miliardi di smartphone entro il 2020, accelerando la crescita di un mondo connesso e ricco di dati. L'analisi dei big data aiuta le aziende a identificare trend e modelli del comportamento dei consumatori. E i dati giocano un ruolo cruciale nell'Internet of Things. I dispositivi e i servizi domestici sono sempre più collegati a Internet, migliorando il servizio per i consumatori e creando nuove opportunità per le aziende. I ricavi derivanti dall'Internet of Things stanno crescendo e si prevede che raddoppieranno in meno di un decennio. Anche la tecnologia digitale sta guidando un'innovazione dirompente, nuove idee e nuovi modi di fare impresa. La sharing economy è la patria di aziende in rapida crescita che collegano gli utenti, dal car sharing ai viaggi e alla musica. Gli aziende devono investire nel digitale per sopravvivere, dalla vendita al dettaglio, al fintech e alla sanità. A livello globale c'è un vasto potenziale non ancora sfruttato. La maggior parte della popolazione mondiale non è ancora online. Ma nuovi mercati emergenti stanno costruendo infrastrutture digitali. L'economia digitale è cresciuta. Le migliori aziende digitali sono supportate da solidi modelli di business, bilanci e utili. Miriamo a identificare le opportunità più interessanti in questo settore in rapida crescita, che sta trasformando il modo in cui viviamo. Perché i trend che stanno cambiando il mondo non dovrebbero cambiare anche i tuoi investimenti? Grazie per la visione!